Ciao a tutti ragazzi, oggi facciamo il confronto tra le ribelle Ranixti e le Spin Planet di scarpa. Vediamo insieme le differenze tra queste due scarpe, soprattutto per chi è più consigliata una e per chi è più consigliata l'altra. Ma iniziamo col video. Iniziamo come al solito analizzando le suole di queste due scarpe. Inizio subito col dirvi che utilizzano entrambe la stessa suola, ovvero la presa di scarpa. Entrambe utilizzano la mescola ATR e GAM, però sono due suole diverse. La ribelle Ranixti utilizza la suola TRN05 e la Spin Planet la TRN06. Questo cosa vuol dire? La TRN05 delle ribelle Ranixti è una suola più prontata, diciamo, alla durabilità. Una suola con la quale è possibile farci più chilometri e naturalmente potendoci fare più chilometri si va a perdere un pochino sulla roccia. Per intenderci, l'unici punti, ma proprio in cui ho trovato, che si scivola un pochino, ma proprio cercare l'ago nel pagliaio, è su quella roccia particolarmente unta, dove sono già passate tantissime persone e anche in caso sia unta e bagnata. Per quanto riguarda, invece, la TRN06 è proprio quella da racing di scarpa. È una suola che ha una tenuta veramente, veramente spettacolare, tiene anche su roccia particolarmente unta e anche sul bagnato, naturalmente. L'unica cosa è che avendo una così alta tenuta, un così alto grip, va ad usurarsi molto, molto velocemente. La cosa che poi possiamo notare anche ad occhio è la differenza di tassello. Sulla Sribeller Anixt troviamo un tassello molto semplice, molto classico, tutti nella stessa direzione, in base all'avampiede o al tallone. Comunque è un tassello sicuramente prontato alla stabilità e al comfort. Per quanto riguarda invece le Spin Planet, troviamo dei tasselli posizionati strategicamente per permetterci di progredire in avanti e avere una buona spenta. Quindi sicuramente dei tasselli che ci aiutano a correre molto più veloci. Continuiamo, passiamo a parlare dell'intersuola di queste due scarpe. L'intersuola possiamo dire che è quasi il medesimo. Entrambi utilizzano un'eva a media densità, entrambe addirittura hanno la stessa altezza del tallone, 28 mm, ma cambia il drop. Infatti troviamo un drop 6 sulle Ribeller Anixt e un drop 4 sulle Spin Planet. Questo cosa vuol dire? Innanzitutto, l'eva a media densità è perfetto perché entrambe siamo abbastanza ammortizzate sia reattive per riuscire a correrci bene. La differenza sa che su un drop di 6 mm è un pochino più pensato per aiutare quelle persone che magari appoggiano anche di tallone per aiutarle proprio a fare la rullata e spingere in avanti. Invece un drop 4 è sicuramente più consigliato per chi appoggia più di avampiede, quindi magari un corridore un pochino più veloce che ha l'appoggio di avampiede e riesce a sfruttare questo drop basso. La cosa che è veramente differente tra le due è che nelle Ribeller Anixt troviamo anche all'interno un plate in fibra di vetro che aiuta nella stabilità della scarpa. Sono comunque molto stabili, tutti e due, perché comunque hanno la stessa altezza dell'intersuola o lo stesso tipo di intersuola. Però nelle Ribeller Anixt, soprattutto se utilizzate da delle persone molto pesanti, questo plate in fibra di vetro aiuta davvero tanto. La grossa differenza sta nell'attomaia, iniziando dal puntale. Il puntale è decisamente più rigido sulle Ribeller Anixt, quindi sulle Ribeller Anixt se prendono dentro della roccia sicuro non ci facciamo male. È un pochino più morbido invece sulle Spin Planet, quindi lì fateci un pochino attenzione. Quello che calza subito all'occhio poi è che sulle Ribeller Anixt, come per tutta la serie di Ribelle, troviamo al solito fascione in gomma protettivo che corre lungo tutta la scarpa. Cosa che invece naturalmente non troviamo sulle Spin Planet. Per quanto riguarda la traspirabilità, sicuramente la Spin Planet è molto molto più traspirabile. È una scarpa con quale possiamo correre anche a climi veramente caldi, è una scarpa dove il piede all'interno traspirerà davvero tanto. Sulle Ribeller Anixt invece la traspirità è decisamente minore. È decisamente minore in primis perché troviamo anche meno zone traspirabili della scarpa, perché sulla parte laterale troviamo un esoscheletro che va a proteggerci tanto dalle rocce, cosa che invece non c'è sulla Spin Planet. Inoltre, l'altra differenza per quanto riguarda la Tomaya è che le Ribeller Anixt si può trovare anche in Gore-Tex, le Spin Planet no. Per quanto riguarda i talloni, allora sono abbastanza strutturati tutti e due, lavorano bene tutti e due. La differenza è che il tallone della Ribeller Anixt è molto più avvolgente, è molto più imbottito, molto più prontato al comfort. Invece il tallone della Spin Planet è comunque imbottito, comunque molto confortevole, però ha un'imbottitura un pelo minore rispetto alla Ribeller Anixt. Quindi comunque è un tallone anche un pochino più improntato alla spinta e a chi cerca la massima prestazione. Per quanto riguarda linguetta e lacci, i lacci possiamo dire che sono molto simili, sicuramente una calzata molto fasciante su tutti e due. La differenza sta che nelle Ribeller Anixt troviamo una linguetta classica, imbottita. Sulle Spin Planet invece troviamo una linguetta racing, molto affiesolita, senza nessun tipo di imbottitura, una linguetta comunque allo stesso modo molto molto avvolgente. L'aspetto poi che non si può naturalmente trascurare di queste due scarpe è il peso. 290 grammi la Spin Planet è una taglia 42, 355 la Ribeller Anixt. Fidatevi che si sente. Quando corriamo si sente davvero tanto. E questo è un grosso spartiacco, perché la Spin Planet, essendo più leggera, sarà sicuramente più improntata a chi corre veloce per avere una scarpa bella agile e una scarpa con quale poter spingere e non sentire la zavorra ai piedi. La Ribeller Anixt invece vi assicuro che quando cerchiamo di ottenere una certa performance in velocità, sentiamo che abbiamo ai piedi una bella zavorra, quindi sicuramente ha un grosso spartiacque. Per che distanza vi consiglio queste due scarpe? Possiamo dire che la distanza per la quale ve le consiglio è la medesima. Possiamo utilizzarle da gare da 50-60 km a gare fino a 300 km. Per quanto riguarda davvero il range di utilizzo, sono equiparabili. Quello che cambia invece è l'utilizzatore e soprattutto anche i terreni dove utilizzarle. Iniziando dai terreni, io vi direi, Spin Planet potete usarle praticamente ovunque. Dai terreni di bassa quota alle strade di fondo valle, fino ai terreni d'alta quota. Quindi se per esempio dovete fare una gara che parte da 500 metri di quota, arriva a 2008, la Spin Planet va veramente bene. La Ribeller Anixt ve la consiglio un pochino meno sui terreni di bassa quota. Diciamo che questa sicuramente va meglio più dai 1.500 in su. Una scarpa un pochino più improntata magari per l'alta montagna, media-alta montagna. Sia perché è meno traspirante, ma anche perché col suo peso davvero sulle strade molto corribili è abbastanza dura portarla. Invece per quanto riguarda l'utilizzatore, qui parliamo di due persone completamente diverse. Per quanto riguarda la Ribeller Anixt, ve la consiglio se siete degli utilizzatori molto pesanti, persone che vanno sopra gli 80 kg, persone che vogliono tanta stabilità, persone che magari hanno anche una pessima tecnica di corsa e non hanno neanche una grande struttura muscolare ossea. Quindi dove la scarpa deve svolgere davvero un ottimo lavoro nel tenerci in carreggiata, nell'aiutarci, soprattutto con le persone che interpretano le gare di trail magari come gare di fast hiking, in cui corrono poco ma camminano tanto. La Spin Planet invece è una scarpa per chi fa ultra ma per chi vuole spingere. Una scarpa diciamo per un corridore medio e voluto, una scarpa per un corridore che pesa tendenzialmente dagli 80 kg in giù. Una scarpa per chi ha comunque una buona tecnica di corsa e vuole spingere. Una scarpa per chi vuole andare veloce e vuole cercare la performance. Per quanto riguarda i prezzi, 190 alle Ribeller Anixt, 160 alle Spin Planet. Ci può stare la differenza di prezzo soprattutto perché sulle Ribeller Anixt troviamo decisamente più materiale, troviamo molta più struttura, quindi diciamo che proprio hanno dovuto inserire molto più materiale su questo tipo di scarpa rispetto che sulla Spin Planet, quindi ci sta questa differenza di prezzo. Tenuto conto dunque questi sono i prezzi ufficiali di scarpa, probabilmente online si troverà qualcosa o meno. Detto ciò ragazzi, voi su che tipo di scarpa sareste più orientati? Ribeller Anixt o Spin Planet? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e nella speranza sia stato esauramente sostitivo anche per questo confronto. Vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!